benvenuto a monopoli guardò quante volte ho sentito ma lo sai che questa città è davvero carina che emozione ma cosa devo schiacciare? ho tutto da solo qua sai che a online non ho mai giocato e quindi devo imparare a vai 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 schiacciare partecipa guarda eccolo qua eccolo qua ma che va sei tornato sui teori dovevi sentire una faccia così ma in live come si gioca? catalino aiutami sai giocare alla monopoli deal prendi due carte una caso ma scelta io vado non so non scelte due a casa non so devi farti le case devi farti le cose dai figatissima ma non ho capito come si gioca non so come si gioca ma la casa sono un cazzone basta basta guardate i video sono i colori diversi si che sono le case non vedi che c'è l'abitazione i rossi i verdi ce ne stanno tre non me ne da più ma funziona devo fare le case ok caterino ho capito Pierluigi si è arrivato ma non capisco vai nella live mocker sua di black count così così mi grandisci fine turno devo fare sicuramente è così oh finalmente poi due carte ok ho messo due carte oh là perché ne hai presi già io ne ho presi tre tu due boh non ho capito no due due cazzolini da verde ma il monopolio il romale no eh vabbè questa più vero questa carta verrà rubata mi tra sto rubando perché ho usato una carta azione ma non sono capace non capisco è diverso da l'altro mi piace il classico ma ti dicevi che faceva cagare fino a poco fa vabbè c'è quello casi devi fare le case figa devi completare tutte le case capisci lo devi fare questo è una proprietà con una cazzolini non capisco eh lo so ho visto a me piace quello classico ma quindi che succede ora che si è bloccato tutto non serve sto facendo semplicemente il mio turno sto pensando ma non vale perché lui è vantaggioso su giocare ovvio che perdo un minimo su giocare un po' un attimo di scopi basta io non so cos'è carta che è praticare due carte ma che ti legge c'è scritto l'effetto a fianco presto presto certo che è fatta tra le generazioni che non sanno quello giocare eh beh infatti quello che capisco io è che io gioco quello vecchio ma scusami spiegami una cosa tu che sai giocare cazzo dove pesca ste cazzo di carte fai i x cazzo di carte c'è pure scritto guarda ste cazzo di là che a parte se lo anticappato ma cosa è sta roba con la d'arcobaleno il catalino il catalino no hai più capo di carte certamente come cazzo le getto ma che non so dove va messa questa qua come avete seguito ma hai spiegato già tu nel mettili nel giallo ok è meglio schiaccio la x ma non va figa guarda che fai cerchio fai cerchio forse hai sbagliato boh facciamo questa che ho fatto da casa figa fai cerchio fai cerchio so che ho potuto spalle per attività ma non so cosa devo fare questo gioco se non ve lo spiegate figa non me lo ricordo che anch'io è a caso queste due carte due carte ma che cazzo hai messo questa che salta sono due gruppi due gruppi due gruppi quindi ora cosa devo fare che ci sarei ingrandisci devi comprare tutti i gruppi uno ogni caso tutti i gruppi quasi tutti e ovviamente io te gli devo un attimo cosa si dice devo fotterteli o devo vincere io capisci ne abbiamo capito che vincerei tu fino a lì ci saranno arrivati quello e quindi devo pagare il mio compleanno che fa di pagare sono anche dove stanno i soldi sono la M la M con i due cosi le due sbarre devi vendere devi vendere delle proprietà per fare per fare dei soldi che valo questo no non va bene non ho capito che cazzo che fa ma dai ma come si fa ma la partita monopoli non lo male no ma figa ci sai pagare sai io ti filotto pagami pagami che cazzo è che in carta figa figa vendi una cazzo di carta figa tocca un po' lo scar e ora fammi i soldi e quanti ti ha tirato dei soldi ma se non so cosa devo schiacciare quanti soldi ti ha dato ma se non so neanche dovete portargli a vedere questi soldi fra e sotto il profilo c'è scritto la M dorata sotto il tuo cazzo di profilo perché non hai soldi allora come faccio a non avere soldi come faccio a pagare soldi se non lo so fare rendendoli probabilità rendendoli le tue cazzo di carte e chi si vede o te ma non so non c'ho i soldi finocchio devi vendere al gioco ma faccia venderlo non so giocare a questo monopoli ti ho fatto la notte qua cazzo me l'hai dato ecco me l'hai dato la carta ma che ne so ha fatto tutto da solo no ma l'hai dato la carta perché sopra c'è scritto quanto vale la carta hai capito mi dà la carta ah perché dice che sarà obbligato ad appuntare la partita bellissimo ma lui sa giocare ma che so giocare sto facendo una cosa a casa non mi ricordo se devo pagare eh se devo pagare sempre vuol dire che sa giocare eh per cosa ti non ho mai a casa quindi che devo pagare vendimi altre cose vendimi un'altra carta sopra il costo della cara se c'è scritto quanto vale hai capito ah ok tu mi devi dare quella roba lì adesso io ti chiedo uno ok guarda che sto capendo adesso non è che mi ricordo tutto ok mi ha dato quella di merda proprio ok ha scritto riscosse metto lì ok sostituirà ok io ho finito il turno tu ti chiedi cosa gli metto catalino scusa ligerissimo è ancora questo catalino catalino basta non geni e so mi niente a tempo lui vede la live mi aiuta ah la vedo anch'io scusate il steamboat sniper gioco metto questa eh ho pescato ho trovato queste due qua ok vai sono sono confidente in ten black la devo mettere qui come ha fatto lui devi vincere tra ma devo seguire monopoli sai come gioco monopoli da seguire ma sei su twitch ma sei su twitch ok vai aspetta mi sto facendo suggerire da catalino ok aggiunta proprietà oh nuovo gruppo completato grande quindi mi metto questa sono fatte due grande completato del gruppo bravo eh intuitivo il protoponino che la metto ah ok dove la metto però si dove qua sopra facciamo questa tocca a me ok vai no devi pagare figlio di puttana cazzo quanto vuoi 8 sto facendo con giugno da catalino 8 8 8 allora ti posso vendere rasti non voglio venderti sto cazzo suca me l'ha detto sei stronza una una c'è data di culo guarda perché abbiamo preso la blu va va no non proprio la blu ma no eccole qua conferma to stronzo bastardo vedi che bello non è bene non è bene non è bene ma la latte è merda scelgo un gruppo per questa carta quindi devo devo sceglierne una una di queste mi hai dato ne puoi mettere a turni tot carte al coi ma posso mettere tutte me ne fa mettere tutte è normale certo eh fa quanto sei in vantaggio l'urdo bastardo sperai di pescare le carte è buono quindi buono non posso più fare niente e poi passi vedi che è carino è più tranquillo è più tranquillo pesca dice pesca ma come cosa pesca eh infatti no devo fare il fine turno penso sì ok pesca due carte madonna mia vai ti prego robe stronze società elettrica vabbè la metto in gioco perché alcuni non dovresti troppo metterle in gioco come no non lo so io ho letto no andiamo piano non sto troppo corto non so giocare catalino cosa vuoi che faccio infatti mi baso se vuoi tu mi aiuti ok aspetto prima di farti tu mi dici cosa fare io faccio ah aspetta dopo esco altre due carte difficile cazzo mi sono assicurata di merda eh non so alcune per non farteli rubare e robe non dovresti metterle in campo hai capito se non è giocato di astuzia ma se tu non vedi che c'è in attimo nella merda è un po' strano ok assicurata ah ok ci sono buoni di colore ok ok va bene catalina tu sei tu esperto sicuro ma catalina non c'è ti manderò una foto di eros nudo ma figa ma dimmi di te ma che vengo online se c'è giocato io metterei questa qui nella blu si può stare pesca queste carte cazzo pesca queste cazzo di carte intanto poi ho la ok ho pescato mi sono arrivato è questo e questo vuoi tanto a fischare finché aspetto si toccite allora questa qui questa faccio questo ok e adesso cosa chiaccio altro via ok ma se io metto questa qua in albergo nella blu non gli valuta di più cioè non di quest'erebbe di più se si va sopra per dire come nel monopoli da romani che cazzo li do con le due aggiungi a una casa per aumentare l'affitto e li devono pagare l'affitto con le proprietà proviamo no proviamo se è stronzo non farlo dai è passato bastardo non me la fa fare però è perché sono di certo di colori perché l'affitto hanno di colori forse sono di alcune proprietà che le devi usare hai capito non tutte perché anche io ho un po' di carte affitto in mano me le fa usare no io vogliamo mettere la carta albergo ora facciamo una dobbiamo farmi una eh ma quella è già un set in blu sono due basta sono tre sicuro guarda guarda sono in due no sono in tre il blu chiaro è in tre il blu scuro ha due sono due in monopoli sono due si ok e devi guardare i marroni sono c'erano due nel monopoli infatti hai lasciato tutto il set cattolino affitto e gioca ad entrambi quindi faccio queste qua affitto o affitto consigliato basta che non ti fai perdere butta butta merda ma ti faccio vedere ah ha fatto lui da solo dobbiamo fare veloce cari ma infatti è veloce è che c'è sa parte da solo ma tu hai messo una tavola dei soldi nella tavola why ma no ha fatto lui tutto io non ho fatto niente stavo ancora scegliendo cosa fare ok praticamente ascolta te vai vai cara convertibili no potrei usarla perciò cosa cosa è questa cosa nera non lo capisco è praticamente è praticamente il jolly è il jolly che vale per quella carta non corre che c'hai chiss'altro merdoso dammene due madonna gli affitti big affitti che ti chiedo vero due due veramente di effettoso aspetta guarda le difficoltà ma devo fare tre ma gli dai anche il resto no non posso cosa faccio che gli do questi due qui se no si fa il set e non vale io ho anche i soldi però non riesco a capire come faccio a mettere i soldi invece di darti le difficoltà non lo so se c'hai i soldi dovresti appunto dare i soldi c'è un'opzione che ti fa andare sui soldi scusa se non voglio dare le proprietà ci sarà un'opzione che mi fa quanti soldi hai? quanti soldi hai? ok però gli devo dare duemila eh ok duemila guarda che quando mi viene fuoriscritto in attesa che black count 80 giochi non so se tu rimane pochissimi secondi uh buono quello è di prima praticamente metto e metto vabbè ma grazie al cavolo noi non sappiamo giocare siamo incanati che carino eh vabbè penso che non piacereò più mai più a sto gioco ma che? basta impararlo ma basta non impararlo finocchio che cazzo c'è lì? non mi piace 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 devi prendere due carte pesca due carte ok è sempre quello figa se c'è dai non ti metti la volida cazzata ti hai perduto i territori basta guarda adesso proprio che mi distraio non vado pesca già pescato mi hai dato questa e figa non fa piacere di genere ed ecco attalino figa ti fa lui il gioco poi fallo tu non so giocare io e figa neanche non so troppo giocare suorzio un po' di roba non me lo dà ma che c'è un problema perché devi vedere anche i colori sono giusto devo fare questa qui quadrato catalino cos'è metti in banca? eh praticamente te li protegge da quello che mi ricordo devo metterli in banca se vabbè mettiamoli in banca va ah ecco ecco la banca è la tua scusa scusa cosa ti dico la banca sono i tuoi soldi hai capito? facciamo questo proviamo per pagare e non pagare le prove no devo fare delle prove hai capito? ok facciamo questo la banca praticamente sono i tuoi soldi capito? metto azzurro e pazzo quindi metto questa ok ok ah ok scusa questo questo Ah no, devi pagare, ogni volta devo pagare, figa, le notifiche so, devi pagare, devi pagare, devi pagare, cazzo c'è, devo pagare, cazzo proprio messo, perché finiva il tempo, devi pagare, devi pagare, devi pagare, no vaffanculo, opzione, opposizione, troia, ho annullato la tua azione, guarda, ha annullato la mia azione, ho la carta magina, devi pensare che ho mezzo Yu-Gi-Oh, non ho giocato a Yu-Gi-Oh, mezzo Yu-Gi-Oh, mezzo Yu-Gi-Oh, mezzo, tanto mezzo, ma cos'è sta qua? Tu mi devo schiacciare che mi torna, no? Sì, ok, madonna che cazzo, vabbè, questa la uso subito, che carta che ho mai visto? No, vabbè, pagami strunzo, però se io uso questi, che dici? provo a fare i testi due, altrimenti non impari, bravo, vedi, 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 ho fatto la cazza giusta, ancora, ma che hai rotto le balle, è un fottiglione, ho finito i soldi, qua, però adesso non posso più andare nella banca, scusa, ma ti ho dato 5 mila, non mi hai dato il resto, no, fran, ti do il resto, no, fran, ti do il resto, no, fran, tu devi pagare quello che hai qua, che cazzo è il resto, ti do il resto, poi te lo ridò indietro, ah, aspetta, se hai un tacchino, fran, ah, ok, va bene, Allora, niente, qua, ti do un pochino di quella, no, quindi, cioè, una di queste, attenta che mi è arrivato il suggerimento, che stai qua, dopo ti fai il computer, ma io non ti capisco niente, cosa vuoi che non capisci, devi vendere le mie età, madonna, e poi devi stare attento, che devi guardarmi anche il mio cavo, perché non mi puoi dare le cose che tipo, mi completano il sette, capisci? Cioè, sempre quelle le situazioni, è un monopole normale con le cerette. Eh, a me c'è cose che non completano il sette. Però non è che lui ci dà una mano, eh, che sta per sé. Chi? Non ci vede neanche incontro. Ah, 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 per questo è lo caro. Io? Io, ma sai che sto dicendo cosa devi fare, al stronzo bastardo. Ma posso metterle in banca tutte? Dovevo metterle in banca, Catalino, prima di metterle... Allora, se le metti in banca, ti fai i soldi te nel caso in cui dovessi inculare, insomma, non tutte, insomma, un po'. Perché se dopo, come si dice, io ti devo far pagare, dopo te, per me le pietà, me le dai a me, me le dai a me, e io rinco, quindi non è, non è troppo l'idea massima dare le proprietà, hai capito? A meno che non ne dai una che, che particolarmente non mi serve. Ma non me la faceva mettere. Non me la faceva mettere. È perché, è perché è finito le mosse in un turno, da quello che so, hai delle mosse in un turno. Metti in banca. Ok. Dammi i soldi, bastardo. Che due godi che vuoi in questo gioco? Fingare i soldi, fingare i soldi. Puoi darmi i soldi, puoi darmi. abbiamo finti dei soldi. Oh. Sì. Però, dai bitto risposto. Poi, tu hai tato mossa. Oh, no. Tu hai pagato? ma va si che sa giocare fa finta di non saper giocare ma che cazzo stai disegno sto guardando gli effetti guarda gli effetti sto guardando ma è vero che basta perché io non posso mai pescare le carte scusate forse è che non capisco se continui a farmi pagare io scendo e non prendo mai carte è quello che non capisco non prendi mai carte le carte le prendi due carte nel tuo turno basta come anch'io pesco due carte nel mio turno ma che gioco stupido mi chiede di giocare a questo non giocherà dai figa perché non hai necessità puntare ma figa ma cosa c'è di complesso ma cosa c'è di complesso ma che cosa sai di complesso è così c'avevo solo quella come so io non so giocare non so cazzo perché ti provo adesso allora questa c'è la mentira ma hai mai giocato a yugioh? hai mai giocato a yugioh? no mai? figa che cazzo di infanzia di merda no sicuramente molto voglio di quella moderna moderna di quella moderna di adesso sicuramente ma anche quella degli anni 2000 di quella degli anni 2000 no un cazzo perché era abbastanza fiera ok abbastanza fiera fino al 2010 ci stavo nel 2008 ci stavo ma anche no diciamo 2005-2006 dopo il 2006 vabbè no io nel 2006 avevo finito no? tanto lui ci fa pagare come al solito ci fa pagare ci ho le carte devo farti pagare? sì se no ho le carte affitto non posso farti pagare a caso figa eh ma capitano solo a te a me non ci capitano mai ragazzi stazione dai ti metto una stazione dai tutte le case eh quando gira il tabellone che carina oh bene non ti faccio pagare se non c'ho le carte se le giochi bene guarda che si guarda la live sciocca il telefono che praticamente beh io hai questa da carcento no ti chieditavo perché alla fine ne abbiamo tre e poi ci possiamo mettere questa no ancora ce ne avevo tre ma questa qua non la posso usare posso usare questa qui Catalino leggi sulla destra ah no però non ho una carta di scienze niente mettiamo per forza questa qui c'hai ragione eh no perché dobbiamo scambiarla e non abbiamo niente da scambiare c'hai di ciali case noi non ce ne ho date le carte delle case dai il giallo e prendi la storia non ce ne ho date ancora sono che vabbar mi io come tu ti hai ti ti hai tu mi ti 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 No, due però Questa proprietà Verranno scambiate Ok, non posso fare un cast No, una sola gliel'ho data Posso fare un cast C'è stronzo però Stronzo Guarda dai, non mi ha inculato il top Però, bene Cioè, mi potevi inculare Non lo so, le tre non credo che Non so Fine turno ora, no? Tu devi contare che tu hai le top azioni a turno, hai capito? Non puoi farne di più Ok, no, devo leggere No, sarebbe un po' troppo No, se non ci fosse Catalina Questa era il pareggio al balcone A tirarmi fuori Tu hai tipo Quattro o cinque azioni Che tu hai fatto a turno, hai capito? No, scusa Per mettere quelle case verdi Devi avere comunque la carta verde Esatto Quindi io se ho quella dell'albergo Non posso mettere la fronte Non ho quella della Quella verde Prima Esatto Esatto Quindi le case ora la vedo dura Quindi Guarda, o metto in banca Non la costruiremo mai Noi non la costruiremo mai una casa Penseremo Oh sì Da poi qua Metti in banca no Fine turno Vedi, non hai nulla da fare Anche se hai dei turni rimasti Hai tipo cinque turni O quattro o cinque turni O tre Cioè tre azioni O quattro o tre azioni Niente, dobbiamo mettere queste in banca Tu devi far conto che hai tre robe da fare allora Adesso mi scusa Tre robe da fare Ok Però non abbiamo la capacità È per forte E devi gestire queste carte qui Basta, dopo un po' Mi farei giocare Io metterai queste in banca Cominciamo a metterle Oh, bravo Parla con me Non per questa carta all'inno Sono io che sto sfidando Sto aiutando Quattro, scusa questa Perché la tua carta qua Non va abbinata a un'altra carta Ok, bravo 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 Ti fai il gruppetto Guarda Guarda che sei messo alla pari mia Perché tu hai anche tu un gruppo completo Anche un gruppo Anzi questo io si è messo anche meglio Tu si è messo anche meglio Tu si è messo anche meglio di me Perché hai più Un'altra carta Aspetta Una Tre Cinque Tu ne hai anche tu cinque Posso giocarla questa Dice che non ha più carte da prendere Fini turno per forza Se hai fatto tre azioni Non dico che rimane un'azione Però non abbiamo carte Allora 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 Ok Ok Guarda Conta un'azione Ok Due azioni E ne manca una Ok Ma non ci taglia mai Se carta E anche la fortuna Dei principianti Ok Posso fare così E aggiungela qua Aggiungela Convertibile Ho vinto Ah Si completa due gruppi Dice Bellissimo Ma figlia Non lo capisci No Mi fa capire Certamente Però Dai ma che sei stronzo No E' bruttino Più bello quello classico No E' bruttino Non lo capisci E' che proprio Da me piacciono proprio I giochi di carte No Mi piacciono i giochi di carte Ma questo gioco Non mi piace C'è gioco a uno Gioco a solo Gioco No Non sono giochi di carte Che intendo io Però questo è troppo Non sono giochi di carte Che intendo io Yu-Gi-Oh Magic Vabbè Queste robe sono anni 90 O anni 2000 Io non l'ho mai giocato a ste robe 80 o 90 Si Perché Voi farne una Non avevo altre idee Non avevo il tempo di giocare Ma pare che tu sei il tocchiotto Però Non è che c'era molta roba Non ho provato Una volta solo Ho provato a giocare Tipo L'idea che sei Quando tu sei il mago L'altro è il guerriero Quelle cose Un po' fantasy Però non sento le sue idee Non me lo ricordo Tipo quando ero più giove Una volta sola Ma Stavente Questa c'è qui sotto Le carte Eh quello è molto più bello Beh il classico rimane intramontabile Che ne decidi investire In questa città? Non lo dico perché Potrebbe offendersi Chi è che siano buoni? Dai no Dillo Dillo Ma Catalino è live Cosa c'è? Cosa c'è? Ma Catalino Ma Catalino Scusate La tua età Non ha la mia età Non ho capito Ma è un ragazzo della chat Ma che cosa è no Dillo Sei live Deve avere un'età È un ragazzo della chat Come è andato il diciottesimo volontario? Non è che tutti quelli che entrono lì Chiedo quanti anni hanno Cosa fanno No cosa fanno Quando gli anni hanno Perché non so Sembra che stia parlando Che sia un quarantenne Come sta parlando No secondo me È più verso la mia età Si con un nome del cazzo del genere Catalino Catalino Se va più verso 15 15-10 anni No secondo me È più verso la mia età Questa città non è mai stata tanto bene Eh che cazzo ha detto Fran Che cazzo dai Non vale mica che vado su Twitch dai Il lion Scusate 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 E con Eh Mentre se vuoi giocare No No Aspetta Sono meglio Tac Scusate Scusate Questa città è davvero carina Cioè La vuoi mettere È del 90 Del 90 A 10 anni meno di me Quindi è già più verso la mia età È metà È già vissuto un po' di più gli anni del monopoli classico Diciamo questo O meglio è più verso la mia età Perché io sono del 99 9 anni Tu 10 Siamo Siamo lì Eh però lui a 10 anni meno ha vissuto forse più gli anni miei Gli anni tuoi Quando era piccolo Come morto Ah sì Quando era piccolo Boh 90 Fai conto che ha 6-7 anni No 8 anni In 98 Cominciate a ridere gli anni Per dire Per dire Almeno 8 anni Perché prima non li vivi Almeno 8 anni Un minimo tetto di fai Beh è quello dell'adolescenza Quelle cose lì che comunque Cominci a ragionare Eh 8 anni 8 anni Tipo non so Io per esempio Io inizio 8 anni Nel 2005 ho iniziato a vivere A fare esperienze A dirti È stato il 2005 Io nel 95 avevo Non lo dico Però avevo Ho 15 anni Avevo Sì infatti ho 15 anni Io ero adolescente Quasi A 8 anni 10 anni Avevi Nell'88 Sì Cioè Gli anni 90 Tranquillamente Quindi ci sono Gli anni 80 Comunque Ti rimangono Sì 2 anni Degli anni 80 Quando hai 8-10 anni Ricordi Gli anni Eh lo so Però ho detto 8 anni Prima Prima Dai un po' La cazzola E poi erano Spermatozoo Anche tu hai Spermatozoo Stronzetto Sì va in quegli anni Lì 95 Aveva 5 anni No quanti ne avevi No tu sei del 99 Manco c'era 99 sono io Eh no Eh nel 95 Manco uno Spermatozoo Era proprio Ancorati le nuvole Non erano neanche Nei pensieri Non erano neanche Non erano neanche Non fai conto Che è del 79 Un anno in chiudita Pensate Ah Catalino Sto morendo Questa città Non è mai stata Tanto bella No parte la rissa No Lasciamo stare Perché Lo scelgo Anche io so giocare A monopoli Guarda ci gioco Da una vita E ho anche Quello della PS3 Ma non questo tipo Di monopoli qua Cioè quello classico Questi quasi Ultramoderni Io dico no Via Lo stile Fatto Beh ma Scusa vuoi mettere Tirare i dati Spostare le tesserine Sopra Prendere gli imprevisti Ma che figata è Ma qua Manco gli imprevisti Ci sono Non ho visto manco uno Cioè erano quelli Di imprevisti Sì che ci sono Sì ma sono bruttissimi Ah ci sono Tutti quelli del gioco Oggi sono originale Non è dell'asbro game Ma è dell'asta Ci sono Tutti da ridare i dati Fai Mettere una casa alla volta Eh beh Ti ho detto Fai una cosa carina Anche qua Figa Non apprezzi C'è figa Ah in conno Ci chiedono Se hai l'infradito Ci chiedono Se mi piacciono i piedi Di un attimo Magari sono feticisti Che ne sai Comunque Hai detto Mi piace Infatti cosa te l'ho detto Mi piace La domanda però Non è Ti piacciono i piedi Vuole sapere Se tu mi porti L'infradito Quando vai in spiaggia Magari te porti Le porti Quando vai in spiaggia Io no Io le odio Tu hai l'inciabato Mi fanno cagare Nel fradito No Quello si Veneto Dalla parte di là Ti sente Dai Dalla parte di là Dalla parte di là Cioè io sono Dalla parte di qua Dalla parte di là Prosto no Anche a Mock Quello di prima Era Veneto Comunque Dai vabbè Ti saluto Che sei fatto tardi Bello Non lo sai Di dove lo sai esattamente Così almeno Lo faccio contento Fino a che te ne vai Non è mai stato tanto bene Ma figa Che cazzo è uno stalker Quel finocchietto Che c'è Anche lui Veneto Eh perché anche lui E' piemontese come me Quindi per quello che dicevo Dall'altra parte Ma non Dalla Piemontese Allora Veneto Padova Comunque No Insomma Voglio essere contento Padova 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 La città Universitaria No Tranquilo Che tutti stiamo Scassando Le Padovan Cosa dovrebbe essere Veneto No perché mi ha scritto Ah ecco Padova Città universitaria Ma vuol me Ciao Sant'Antonio Non lo so E' vostro santo Ah è andato via C'ha abbandonato Cogno E' ottimo Cogno C'ha abbandonato Il nostro destino Ma perché devo stare Con sto Monopoly Triste Qui Torno su Dead by Day Dai Ma va Ma ha fatto giocare A Monopoly Io lo voglio giocare No ma perché Con lui giochiamo A Dead by Day Dai però Sinceramente Stesso Cioè Dovevamo fare un partito A Monopoly Quell'altro ragazzo Ma a Monopoly È normale Nossa cagata Si lascia stare Che c'è pure Qua nel Monopoly C'è pure I mini poli Ah 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 Il topelore dei mini poli Cioè Vediamoci conto Vabbè Da sotto Benvenuto a Monopoly Ficchissimo Se Monopoly Poi quello dei conigli Non lo so C'è quello dei conigli E poi una roba dense Ma sono orrendi Vabbè Si 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 però non ti so dire Come si chiama Su Twitch E anche su Un altro coso Che è tipo Un Un whatsapp Una roba così Ma che io non uso Quindi non mi vedo niente Una roba di tutti i videogiocatori Si si lo trovo Di solito fa le live Tipo anche lui a quest'ora Stava Ne stava facendo una prima Eh telegram quello Che io non lo uso No mi sembra telegram Se guarda ti invito Nel suo gruppo Sulla PS4 No vabbè Non ci vado mai Vabbè Io torno su Dead by Day Magari riesco a trovare Qualcuno con cui giocare Ci vediamo Se è mai di là Perché sinceramente Dopo un po' Sta musica Mi dà una mouse E questa live La cancello Questa non deve apparire Dall'ultima parte Orreggio La cosa Sulla party Nel party Dici Eh si La prossima volta Facciamo così Eh non ti ho pensato Perché sai com'è Sto giocando Vabbè Comunque Vado di là Sulla Grazie a tutti